Siamo registrati. Oggi in compagnia è i vecchi guazzi. Si guarda, si guarda se hai getto uno. Posso farlo per te? Si tolge? Che si cerca? Piappappa. Un po' di cappella mia. Ci sono and�orgone. Mi sono andato. Guarda che devi prendere il mostro. Adesso è andato. No! questo qua è una volta in grado di me questa è proprio piggy c'è un'altra volta scogliare il comodatore Oh no! Oh no! E' un po' di nazz... Normali che stanno in gettoni infiniti, almeno... ...e' un tempo solo dentro la sala al gioco. E' un po' di nazz... ...e' 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 un po' di nazz... ... дев Satan profilo... ...e' un po' di nazz... ...iface. Onda... ...e' un po' di nazz... ...e' una banca si vuole che hanno ucciso. E' un po' ancora piùка. C'eo' ma... ...e' un po'... ...se lo sapevo d'un po' di nazz.. Visto, sai perchè è ingazzato perchè è nella prossima tendenza Ma... Finisce molto però Molto Siete rubato... Sono quattro stage al gioco Quattro e poi finisce Il primo nel deserto Mi sono spiegato a farlo Questo è il primo pezzo della mano Ma questi che hanno? Sicuro hanno massimo... 91 da lì Non lo so Mi ricordo che era piccola Un gioco per la vita Scorpione Qua ci sono i scorpioni che lanciano le linee Non lo so Non lo so Non ci sono le quattro Non so Non lo so Non lo so Ma non lo so Sì, è già il 2. Stavo sul motorino Ehi, non c'è la spuglia e ti chiedevi via Non va a vedere che non c'è la scuola Ahahah Ma non c'è la scuola No, non c'è la parte di ciò Mi ho messo un burguardo Ehi 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 C'è la scuola C'è la scuola Attenzione Lei pietraggi i massi come lo termine come pari non fa niente che chiama per fuoco pure cammino trima facciamo pure o prima Grazie a tutti. Eeeh, te parei Siamo quasi arrivati al boss Debbia essere tipo dei serpenti Eh, siamo arrivati Eeeh, eeeh Fai fare super boss Ah, il caso è proprio il caso Ah, il caso è proprio il caso Ma non è un nuovo morto Ah, c'è un 2 secondi Eeeh 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 Se no mi sbaglio il test è tipo in Cina Oh